Buongiorno, mi chiamo Daniele Bologna, sono responsabile commerciale Arnitalia, ci troviamo a Mexpe, noi ormai è un appuntamento immancabile, esponiamo anche quest'anno uno dei nostri centri di lavoro da punta, parliamo del centri di lavoro C22 all'altra latta dinamica, forse di lavoro di sondaglia video piccola, initeci a trovare al padiglione 5 stand M14.